Uccelli variopinti dal raffinato piumaggio sono i protagonisti di A General Synopsis for Birds, opera dell'ornitologo inglese del Settecento, John Latam. Le sue illustrazioni, proposte in una ristampa anastatica dal Consiglio regionale, sono state presentate in sala regento dalla Biblioteca Nazionale Universitaria e dal Museo Regionale di Scienze Naturali. Birds è uno dei testi più preziosi del fondo librario Bonomi Bolchini, proveniente dalla Villa dei Laghi della Mandria e trasferito nel 2011 alla Biblioteca regionale.